Dare dignità e risposte alle aspirazioni e speranze di tanti giovani con disabilità che vorrebbero vedersi accolti nel mondo del lavoro. Questo è il progetto Piccoli Passi, presentato ieri presso la sala comunale di Piazza Mario Sciacca dall'Anfa Solo su Dipatti. Sono previste una serie di azioni che supporteranno i partecipanti nel percorso di crescita personale, formativa e professionale e nel rispetto delle loro inclinazioni per indirizzarli nell'inquadramento verso enti pubblici e aziende private. Questo è un progetto importantissimo, credo che sia fra i progetti più significativi in tutto il sud Italia. Si tratta di cominciare a creare le condizioni, prima di tutto per fare cultura e coinvolgere tutti gli attori sociali, quindi dagli enti pubblici alle aziende, per fare sì creare quelle condizioni affinché le persone con disabilità possono accedere al mondo del lavoro vero. Per mondo del lavoro vero noi intendiamo il lavoro produttivo, il lavoro dove una persona può estinsegare tutte quelle che sono le sue potenzialità. Noi abbiamo una storia abbastanza lunga perché siamo nati nell'87 con una struttura che allora avevamo chiamato Agenzia di Mediazione Lavoro. Oggi è diventata un'agenzia per il lavoro, accreditata presso la Regione Lombardia e abbiamo iniziato con un percorso di avvicinamento all'inclusione lavorativa, partendo dalla formazione professionale, quindi l'accompagnamento e l'inserimento lavorativo, fino ad arrivare oggi a una filiera completa di servizi che accompagna la persona disabile e la sua famiglia in questo complicato processo di inserimento. Abbiamo già stipulato delle convenzioni con alcune aziende come le ceramiche Calderone, l'agriturismo Il Daino, l'azienda agricola La Fattoria del Bosco, ma è importante promuovere e sensibilizzare anche altre aziende in altri ambiti al fine di dare risposta alle diverse inclinazioni dei ragazzi.